o la todes eccoci qua il primo time's up del 2021 a proposito buon anno e scusate ritardo ma abbiate pazienza ma come potete capire io ho bisogno di sistemarmi dalla parrucchiera volevo darvi un minimo di contegno oggi di cosa parliamo oggi parliamo di questo cioè parliamo dei due derby tra zebra e benetton treviso bisogna dire due cose molto semplici molto chiare la prima sono stati due derby bruttini poco godibili poco esaltanti per l'appassionato e per il non appassionato sia chiaro zebra e benetton hanno provato a giocare la loro partita le loro strutture e si vedevano benetton vuole vuole dominar la partita con le linee dirette perché ma non per altro non perché vuole sondata della sbattere c'è un motivo perché poi e si è visto soprattutto una partita di parma quando soprattutto e ward e joani hanno un minimo di spazio poi sono devastanti e quindi devi avere tutto il resto della squadra che fa questo lavoro prima e poi anche garbisi un tipo di giocatore che se tu hai determinati spazi dove giocare poi i compagni ce li manda a giocare ce li serve quel tipo di lavoro lavoro vanificato da una grande organizzazione difensiva delle zebre zebre che però secondo me hanno lavorato molto bene anche palle in mano hanno lavorato molto bene intanto perché hanno avuto secondo me due mediani che hanno fatto le cose bene a treviso giocato un'ottima gara secondo me nicolo casiglio che dopo gli anni di calvisano sta facendo bene e si conferma comunque un giocatore interessante a monigo secondo è scusate alla franchi nel secondo tempo ha giocato molto bene palazzani casiglio si è fatto male quindi nel secondo tempo gullo ha giocato la sua gara di ordine in maniera diversa un modo diverso di gestire l'ordine a parte di casiglio ha dato il ritmo quando serviva l'ha abbassato quando serviva e ha trovato anche un paio di giocate molto efficaci la seconda frase quale è un classico che si sente dire nel rugby italiano che la mischia vince le partite e i trequarti decidono solo di quanto la mischia delle zebre ha vinto la partita gli episodi poi dei trequarti ci arriviamo la vinta evidente nei drive fatti a treviso dove praticamente il lavoro che facevano era questo c'era questo blocco centrale di 34 giocatori con bigi sempre a guidarlo e treviso che prova di sassare il drive però non ci riusciva perché perché vedete cosa succede facendo per provando a fare perno loro si muovevano dall'altra parte rispetto alla spinta trevisana e l'uomo che i giocatori treviso toglieva non è sempre uno degli uomini esterni e quindi blocco restava compatto e riusciva sempre avanzare sia sempre efficace non avere mai pause e quindi bigi ad andare in meta ma è stato superiore in prima linea è stato superiore in tush a proposito franco smith nelle settimane scorse aveva puntato tanto sulla prima linea delle zebre aveva votato tutto sulla prima linea delle zebre quindi su fischetti bigi zirocchi e ha avuto ragione queste partite stanno confermando quello che ci ha detto franco smith cioè che la prima delle linea delle zebre in questo momento è più performante e giustamente va premiati nazionale attenzione non tutto della mischia di treviso da buttare breve nota marci poi tornavano le zebre perché lucchesi ha giocato due buone gare a munigo più su applicazione fesiva più sul placcaggio più sul recupero a palloni a parma è stato un po più determinato palle in mano ha fatto una meta alla lucchesi di grande carattere ha giocato bene secondo me anche manu e giuliani soprattutto la prima gara bene anche pettinelli a netto del giallo a me non è dispiaciuto poi si è rivisto michele lamaro a parma era capitano giustamente perché comunque è un giocatore che che dà tanto e quindi averlo è molto importante per chi è clavoli per un garo per porto lami per il resto dello staff ora torniamo alle zebre abbiamo parlato la prima linea bisogna parlare tanto della seconda perché davis isi è stato premiato per due volte meno dei match con merito ma bisogna dire delle due ottime gare giocate da corny ieri a parma e soprattutto leonardo crumov attreviso io avrei premiato lui crumov secondo me è stato fantastico crumov è un giocatore che è da tempo le zebre però si è sempre fatto notare poco un po perché le seconde si fanno sempre notare poco però a giocato però veramente sta crescendo cresce di anno in anno cresce di giorno in giorno e sono convinto che se franco smith anzi non se franco smith sono convinto che franco smith gli darà una chance nazionale se continua così ovviamente perché comunque avere una seconda in più di quel tipo serve e questo è importante anche nei meccanismi della nazionale hanno vinto tanti primi cinque uomini ma ci sono anche le terze perché comunque c'è tu vaiti che nelle due dei due derby è tornato il tu vaiti dei giorni migliori ed è un bene per lui e anche per la nazionale che potrebbe essere un'arma in più in un reparto comunque che ha tante opzioni ha giocato bene in banda ha giocato la classica partita di mandato attento preciso con le sue robine e avere anche una terza di ordine di quel genere fa tanto e le partite a volte si vincono così si vincono 25 lo spesso così dominando le fasi statiche non facendo cose eccezionali ma facendo le cose bene e quindi anche la mischia delle zeppe però è stata performante anche nel gioco aperto ha rubato un sacco di palloni però vabbè c'è il ciclo di ieri fischetti vigiano questo meraviglioso grandissimo gesto tecnico c'è stato per esempio anche un lavoro nei nelle mini unit quindi magari vicino attento fatto bene dando imprevibilità occupando bene il campo in una certa maniera e questo comunque ha fatto la differenza poi ci sono gli episodi c'è il giallo a pettinella l'andata c'è l'errore di donofrio errore incredibile che a volte lascia un po ma come fa un giocatore di quel livello a farlo attenzione in campo possono capitare queste situazioni sono normali sono convinto che donofrio è il primo a dire secondo me riguarderà la partita e dirà abbiamo fatto questo errore qua ma è possibile ripeto è normale ci sta quello che secondo me non ci sta e vorrei concludere con questa piccola nota polemica è quello che ha detto griffen in serie di commento attenzione spieghiamo che errore ha fatto donofrio quando un pallone viene calciato e finisce all'interno dei 22 di una squadra il giocatore all'interno dei propri 22 che prende la palla calciata al volo può chiamare il mark può chiamarlo in due modi o gridandolo mark o facendo questo gesto qua prende il pallone e fa il mark a quel punto lui ha la facoltà di poter giocare il pallone da quel punto può giocarlo in mille modi ma una condizione che prima faccia il caccio libero cioè prende il pallone lo rilasci lo tocchi un attimo col piede e poi a quel punto può giocarlo come ritiene opportuno ma deve farlo quel gesto lì non avendolo fatto giustamente mitrea ha fischiato la sanzione a donofrio e il pallone riprenderebbe con queste situazioni con una mischia a favore della squadra avversaria chiarisco un aspetto non è la prima volta che lo vedo capita anche a alto livello è raro però capita griffen ha detto capita quando il giocatore non conosce il regolamento a parte che un giocatore di alto livello non può non conoscere il regolamento ma poi io sono convinto che nessun giocatore non conosce non debba conoscere il regolamento questa è una cosa che io trovo assurda ma abbiate pazienza ma quando si gioca a risico a scarabeo ma voi il regolamento prima non ve lo leggete no perché chi gioca a rugby soprattutto chi gioca a rugby in Italia è convinto che il regolamento non si debba conoscere il regolamento si deve conoscere e questa cosa per me è sempre sorprendente quindi il regolamento va conosciuto va studiato e magari con Time's Up faremo piccole pillole di regolamento io direi che possiamo chiudere qua ho parlato parecchio quasi dieci minuti io vi ringrazio e ovviamente ci vediamo presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti